La Casa del Boia, la Casermetta San Salvatore, la Casermetta San Pietro sono soltanto alcuni dei gioielli di Lucca che sono stati recuperati grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio. A meno di un anno dal Via delle Opere è praticamente concluso il maxi intervento di riqualificazione e valorizzazione delle mura urbane finanziato dalla Fondazione preseduta da Arturo Lattanzi. Il Presidente e il Direttore Marcello Bertocchini hanno fatto il punto della situazione a dieci giorni dalla visita del Ministro Franceschini che il 21 giugno sarà a Lucca insieme al Presidente della Regione Enrico Rossi per inaugurare il centro multimediale sulla Via Francigena ricavato nell'ex Canile e a quel punto anche le altre opere terminate. I 7 milioni stanziati per il triennio 2013-2015 hanno permesso di recuperare tanti gioielli abbandonati. Pensate, come detto prima, alla Casa del Boia, all'ex Canile, all'asfalto per un terzo delle mura, al cambiamento completo dell'illuminazione, al villaggio del Fanciullo davanti alla Casema di San Pietro, alla Porta Elisa. Praticamente sono lavori che sono stati portati avanti contemporaneamente e direi che oltre la quantità c'è veramente una qualità che poi sarà maggiormente apprezzata nei prossimi giorni quando verranno aperti al pubblico. Il prossimo obiettivo è quello del restauro del paramento esterno delle mura, ma la partita è tutt'altro che semplice. La sovrintendenza ha stoppato l'intervento dell'iqualificazione completo perché è troppo pericoloso. Il motivo? Alcune erbacce, hanno spiegato gli esperti, fanno ormai parte dell'habitat biologico e non possono essere rimosse. Una situazione paradossale. A questo punto, almeno fino a quando non sarà studiata una via d'uscita, la fondazione finanzierà solo la ripulitura dalle infestanti come fichi e altre piante.